Nella lotta contro le malattie e in particolare nella lotta contro i tumori la prevenzione è importante. La Lilt Delegazione di Rivarolo si occupa proprio di questo, di organizzare iniziative a favore della prevenzione. Ne abbiamo parlato con Marina Vittone presidente della Lilt Delegazione di Rivarolo Canavese nella puntata di 4 chiacchiere con questo genere. Più di 84 donne di tutte le età, giovanissime e insomma anche mature, di ogni età si sono si sono proposte per fare la visita preventiva. Non perdetevelo lunedì 8 aprile alle 21 su ON TV web. Grazie a tutti.